ciao a tutti eccolo qua freschissimo di stampa il programma di scena 84 la rassegna di teatro musica e danza del teatro don we disturzo di biscello siamo giunti alla quinta edizione quest'anno dedicata ad atlantide e al mondo sommerso inteso come fascino mistero e ricerca artistica qui troverete presentati in modo dettagliato i 12 spettacoli scelti e come da tradizione andranno in scena la domenica alle ore 18 a partire dal 29 ottobre 2017 per arrivare al 25 marzo 2018 un programma che prevede sei spettacoli teatrali cinque concerti uno spettacolo di danza con bravissimi artisti provenienti da varie parti d'italia nella sezione teatro la parte comica brillante domina e abbraccerà tutti e sei gli spettacoli i cinque concerti riguarderanno invece la presentazione di quattro nuovi album di quotate band e bravissimi cantautori che avranno il loro degno epilogo con un omaggio al mondo sommerso del grande fabrizio di andrea la danza infine trova la sua dimensione con le coreografie di una compagnia di roma che ha messo su un bellissimo spettacolo sulle musiche dei grandi pink floyd primo appuntamento come vi dicevo il primo spettacolo teatrale domenica 29 ottobre alle ore 18 sfogliando il nostro programma troverete poi le altre attività della stagione del don sturzo innanzitutto children 84 la stagione di teatro ragazzi che prevede da gennaio ad aprile 2018 quattro spettacoli sempre domenicali in pomeridiana per bimbi e famiglie tutte le informazioni relativi ai prezzi degli abbonamenti e dei biglietti delle due rassegne le trovate all'interno nelle pagine specifiche con numero telefonico a cui rivolgersi per informazioni e prenotazioni e poi ancora i laboratori per adulti ragazzi e bambini nella sezione adulti si tratterà quest'anno la modernità del teatro antico attraverso lo studio la messa in scena di un capolavoro di aristofane una divertentissima commedia che si intitola uccelli i bambini invece avranno modo di cominciare a conoscere il palcoscenico e affrontarlo in maniera più consapevole attraverso le avventure del leggendario robin hood e poi ancora il corso di edizione e altre attività che occuperanno tutto il periodo autunnale invernale primaverile fino a maggio questo programma dettagliato lo trovate sicuramente presso il nostro punto di riferimento la cartolibreria storelli che si trova a bisceglie in via luigi papagni 11 vicinissimo al teatro lo troverete poi anche in altri vari punti di ritrovo della città in alcuni locali delle città di mitrofe chi volesse può consultarlo anche in formato digitale tramite la pagina facebook teatro don luigi sturzo cos'altro mi resta da dire che vi aspettiamo numerosi con l'entusiasmo e l'affetto che avete dimostrato in maniera sempre maggiore in questi anni assisterete a spettacoli e concerti di qualità belli e originali in un posto che è diventato per noi un luogo di famiglia prima ancora che un teatro passate parola portate i vostri amici e parenti a condividere con noi in questi bei momenti e nel ringraziarvi tutti vi do un affettuoso abbraccio e un arrivederci a presto ciao ciao